Lo scorso sabato 21 agosto, nel suggestivo esterno del convento francescano del Beato Sante di Monbaroccio, ha riscosso grande partecipazione e interesse di pubblico nel rispetto delle regole anti-covid la presentazione del libro Sara Matteucci, il mistero della fede bambina, edito da San Paolo. Il libro, scritto dal giornalista Roberto Mazzoli, direttore del settimanale interdiocesano Il Nuovo Amico, è infatti candidato al prestigioso premio letterario Angelo Zanibelli, presieduto da Gianni Letta e vede in giuria nomi di spicco della cultura italiana come Candida Morvillo, Maria Latella, Paola Binetti e Giovanni Malagò. Un libro che racconta Sara Matteucci, bambina nata a Padiglione di Tavuglia nel 1978 e morta a soli sette anni e mezzo, una breve vita in cui Sara coltiva una straordinaria spiritualità. A soli cinque anni si ammala infatti di un tumore che la costringe a numerosi interventi e cure dolorose. Nel corso della malattia però Sara non si lamenta mai e matura una fede nel Signore che sorprende i sacerdoti che seguono il suo cammino. È lei infatti a consolare tutti. Oltre alla prefazione dell'Arcivescovo di Pesaro, Monsignor Piero Coccia, il libro offre una postfazione di fratella Edino De Carolis, biografo di Antonietta Meo, meglio conosciuta come Nennolina, proclamata venerabile a soli sei anni da Papa Benedetto XVI. Alla presentazione del libro, oltre all'autore, sono intervenuti Angelo Alice Matteucci, genitore di Sara, padre Renato Martino, guardiano del convento francescano, il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, il presidente della Proloco Damiano Bartoccetti e Daniele De Marc, amico di Sara, così come Michele Mucciacito, autore del brano musicale Dondola dedicato alla piccola di Padiglione. Parte dei ricavi delle vendite del volume sono stati devoluti alla missione delle suori di Don Orione a Barrancheras in Argentina, dove da alcuni anni è sorto, in memoria di Sara, un quartiere di 20 case che oggi offre riparo a numerose famiglie altrimenti costretti a vivere nelle viglias, autentiche discariche umane del tutto simili alle favelas brasiliane.